Approntati dall'assessorato comunale al mare, gli spazi attrezzati del lungomare roccioso e delle spiagge libere comunali della Playa per favorire gli accessi gratuiti al mare, garantendo funzionalità e sicurezza agli amanti della tinterella. La prima ad aprire, il 30 maggio scorso, è stata la spiaggia libera numero 3, la Stromboli, già frequentata da molti cittadini che stanno apprezzando i tanti servizi offerti, da quelli delle docce al salvataggio, dal bar agli spazi gioco per adulti e bambini. Alla spiaggia libera numero 3 della Playa, in funzione da oggi, si aggiungono anche la numero 2 Vulcano e la numero 3 Etna che domani e domenica aprono anch'esse al pubblico in anticipo rispetto agli anni scorsi. Sul fronte della scogliera sul lungomare è già aperto il solarium di piazza Sciascia, il fronte di Piazza Europa, uno spazio che è stato allargato di quasi 300 metri quadrati rispetto al passato e dunque in grado di accogliere un numero maggiore di persone. Fissata a sabato prossimo, il 15 giugno, l'apertura del tanto atteso solarium di fronte all'Istituto Politecnico del Mare Nautico di Viale Artale a Lagona, realizzato quest'anno dopo 5 anni di assenza per volere del sindaco dell'assessore al mare con un impegno di spesa aggiuntivo di risorse dell'imposta di soggiorno. In contemporanea, nello stesso sabato, verranno aperti anche il solarium e la passerella per disabili di San Giovanni Licuti.